... Io ho mandato un messaggio e non mi ha risposto, ma che ha cambiato numero? Io ho mandato un messaggio, io ho mandato un messaggio, io ho mandato un messaggio. Bravo il messaggio, buono, gentile. Bravo il messaggio. Bravo il messaggio. Sì, non è la mia vita che mi mette, ma ci siete dentro. Si, ma io ho mandato un messaggio. Ah ok, però ho messo, quindi c'ha... ...ho messo l'esame, però ho messo qui, perché la fai di test del taglio, c'è un problema. No, per se sai che i ciliani c'era uno in cilio, e poi tutti gli altri c'era un bel rosso e un bel blu. Ah beh qui c'è? Qui i ciliani lì ci mettono, poi c'è un messaggio in cilio. No, sei mangiato il teore all'emprezzo. No, si mangiava pizzeria in mezzo, ma allora no. E' stato un modello, uno dei migliori, uno dei migliori. Buongiorno da. Ma faccio. Oh, ma che bu. Ma che bu. Grazie. 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 Noi i tutti i quali stanno servire Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.